Ciao, oggi ti parlo della storia del basso tuba. Questo strumento dove nasce, quando nasce? Ora, per fare una ricerca storica si parte solitamente dall'etimologia del nome, ovvero proprio il nome stesso tuba. E qui, se prendiamo un semplice dizionario, possiamo andare a capire questa parola da dove deriva. Io mi sono già fatto un segno e... come? Un cappello a forma di cilindro? Questo è quello che mi dice il dizionario, praticamente questa è una tuba. Ma cosa c'è in comune con questo strumento qua? Nulla. Posiamo la tuba, e preferisco tenere questa tuba in mano, ma mi viene in mente Dante, la Divina Commedia. Poi si rivolse nel vostro occidente, dove sentia la pompeiana tuba. Come? Dante, Divina Commedia, parla della tuba pompeiana per quale motivo? Perché era un suono talmente fragoroso che veniva citato. Addirittura, in un altro, nel capitolo sedicesimo, sempre Dante, parla. Com non si accorge perché d'intorno suoni mille tube. Ecco, in questo caso, proprio per definire un suono veramente incredibile. Il significato poi in Dante è tutt'altro, però questa è un'altra cosa. Ora, per quale motivo Dante parla delle tube? Dante, la tuba, per intenderci questo strumento che ha nelle mani, nasce nel 1835, poi ne parleremo meglio nei prossimi video. Però Dante è antecedente al 1835, come mai parla di tube? Io direi, riprendiamo il nostro dizionario, vado a leggere meglio, e scopriamo una cosa. Tuba, tromba di bronzo con la canna lunga e diritta, usata nell'antichità, greco-romana come tromba di guerra, o anche in spettacoli e cerimoni religiose. Ecco che capiamo meglio di cosa si tratta, per quale motivo Dante parlava della tuba. Ma non è la tuba dei giorni d'oggi, era la tuba romana, greco-romana. Era uno strumento lungo, diritto, un po' come, diciamo, le trombe trovate nella tomba di Tutankhamon, una tomba egizia, che risalgono a 5.000 anni a.C. Quelle erano in argento, però i romani poi le fecero in bronzo. E cosa serviva uno strumento musicale durante la guerra? Che senso ha? Beh, allora non è che c'erano i cellulari, potevano chiamare da un battaglione all'altro, dire tu attacca, tu aspetta, e il generale cosa faceva? Dava dei comandi che venivano trasferiti al musicista che con la sua tuba praticamente faceva sentire lontano a tutte le varie milizie, faceva sentire quali erano i comandi ed erano dei comandi segreti che solo loro potevano comprendere. Bene, questa pratica di suonare questi squilli militari addirittura scoprirono che era talmente bello che fecero anche dei concorsi che esulavano dall'aspetto militare, ma proprio c'erano dei concorsi di esecuzione musicale di bellezza proprio di questi squilli. Ancora al giorno d'oggi, se anche tu penso lo sappia, insomma, il famoso il silenzio dei militari, la sveglia, cioè tutti i comandi ancora che tutt'oggi vengono destinati alla tromba. Ecco che il nome tuba deriva principalmente da questo strumento. La tuba del giorno d'oggi è stata inventata in Prussia. La Prussia è una regione conquistata, diciamo, con l'ultima guerra mondiale e attualmente è Germania, diciamo dell'est, zona di Berlino. Però comprende anche una parte dell'attuale Kaliningrad, della regione di Kaliningrad, che è una regione lussa. Bene, la Prussia ha dato, diciamo, il nome a un altro strumento che portava sempre il nome tuba, ma se vai a vedere in un... adesso non ce l'ho qui con me, ma ho fatto varie ricerche, diciamo, un vocabolario russo, non russo scusami, un vocabolario tedesco dell'Ottocento, in generale se vai a cercare tuba non troverai mai la tuba odierna, ma troverai una parola che è tuba ergotectonica. Che cosa significa tuba ergotectonica? Significa tuba rinforzata. Si cita questa cosa perché fu un matematico prussiano dell'epoca, un certo Christian Otter, molto famoso all'epoca, e addirittura donò questo strumento, era a servizio del re di Danimarca. Il re di Danimarca fu talmente contento che fece coniare 200 monete apposta per ripagare, diciamo, questo inventore di questo strumento, della tuba rinforzata. Ecco che nel 600, nel 700, ancora questa tuba rinforzata ergotectonica era famosissima, ancora nell'Ottocento lo troviamo in tutti i vocabolari tedeschi. Ecco che è una mia supposizione, ma presumo che il nome tuba abbia una forte influenza da questo strumento tuba ergotectonica, inventata appunto da Christian Otter. Io penso che a livello di etimologia del nome ne abbiamo parlato a sufficienza. Ora ti attende il prossimo video dove andremo a scoprire gli strumenti predecessori del basso tuba. A presto, ciao! 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 Grazie per la visione!